Ma vivere che senso ha? Camilla è nata nel 1964 e, a causa della situazione familiare, ha avuto un'infanzia difficile, poi ha cominciato a lavorare fin da giovanissima e ha passato una vita di lavoro, in mezzo a mille difficoltà. Infine, tre mesi prima di andare in pensione, le è stata diagnosticata una grave malattia. Ma vivere che senso ha? Che senso ha tutto questo? Ciao, per chi non mi conoscesse, io sono Fra Stefano e oggi riflettiamo insieme per cercare di capire che senso hanno le cose che facciamo tutti i giorni e qual è il senso del morire e il senso della vita nella sua totalità. Sì, ho chiesto al Signore che mi aiutasse a trovare una risposta e credo che mi abbia aiutato. Ho trovato una risposta che per me è soddisfacente e la voglio condividere con voi. Vi racconto quello che penso del senso della vita e vi spiego anche cosa c'entra Gesù Cristo con il senso della vita. Se mi ascoltate fino alla fine, prometto che risponderò a questa domanda. Fondamentale la domanda delle domande a cui molte persone non hanno mai risposto. Che senso ha vivere? Cominciamo subito a cercare la risposta. Vasco Rossi, il famoso cantante, in una canzone dice che forse la vita non ha un senso ma che siamo noi a decidere che senso dare alla vita. E Vasco ancora in un'altra canzone dice che vivere è un po' come perdere tempo. E a volte sembra che sia proprio così. E forse questo è il punto di vista più comune. Ma in realtà la vita ha sempre una direzione. Quando si parla di senso si parla di direzione, di significato. Potremmo descrivere la vita in qualche modo, la vita terrena, come un viaggio in treno. Noi siamo su un treno che ha una direzione ben precisa. La stazione di partenza è la nascita. E la stazione di arrivo è la morte. Questa direzione della vita non siamo noi a sceglierla. Ma mentre siamo in viaggio possiamo scegliere liberamente che cosa fare. Allora io comincerei da qui. Cerchiamo di capire che senso hanno le cose che facciamo tutti i giorni. Una cosa che spesso si sente dire è che stiamo a noi a scegliere che senso dare alla vita. In parte è vero perché ciascuno di noi ha una certa libertà. Possiamo scegliere che direzione dare alla nostra vita. Io, per esempio, ho scelto di fare il frate. Un'altra persona sceglie di sposarsi, un'altra di convivere, e potete fare quello che vi pare. La libertà ci permette di scegliere come usare la nostra vita. Quindi decidiamo il senso della nostra vita. Ma la vita ha un significato più profondo, che non dipende dalla nostra scelta. Per esempio, una persona può decidere, nella sua libertà, di passare tutta la vita ubriacandosi. Questa persona è vero che ha dato un senso alla propria vita. Il senso è quello di stare bene bevendo vino. Ma non ha capito il significato profondo del vivere. Quella persona ha buttato via la sua vita. Se noi non scopriamo il vero significato della vita, e diamo alla vita una direzione sbagliata, finiamo con lo sprecare la nostra vita. Ma non è facile scoprire il significato del vivere. Ed è anche per questo che qualcuno arriva a dire che la vita non ha senso, che il mondo non ha senso, che tutto è frutto del caso. Siccome non riesco a capire il senso, allora dico che nulla ha senso. Ma è assurdo, è assurdo pensare che ogni cosa esista per caso. Ma non è semplicemente assurdo, è anche terribilmente disumano. Com'è possibile, in nome di una ideologia, arrivare ad affermare che la vita degli altri è insensata? E non parliamo delle conseguenze pratiche di un'affermazione come questa. La vita, invece, ha un significato. E non sono io a inventarmi il senso della vita. Il senso della vita è scritto dentro di me, è iscritto nel mio corpo, nella mia mente, nelle mie emozioni, nella mia anima. Cosa voglio dire? Che più noi cresciamo nella conoscenza di noi stessi, e più impariamo ad accettarci per quello che siamo, e più scopriremo la ragione del nostro vivere. Il senso della vita non va cercato fuori di noi, ma dentro di noi. Claudio è un uomo di circa 60 anni. A seguito di una malattia, i suoi arti sono rimasti paralizzati. La mente è rimasta lucida e può parlare. Claudio dice «Se anche io dipendo in tutto dagli altri, per mangiare, per cambiarmi, per asciugarmi le lacrime, il Signore mi ha lasciato in vita, perché il mio compito non è ancora compiuto. Non importa se devo soffrire, io vivo finché completerò il senso che il Signore ha dato alla mia vita». Claudio ha imparato ad accettare se stesso. E anche se ancora non ha compreso il senso del suo soffrire, ha intuito che anche questo deve avere un senso. Vivere non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Noi potremmo anche chiederci «la vita ha lo stesso significato per tutti? Il senso della vita è uguale per tutti?». Sì, ci sono alcuni obiettivi che sono condivisi da tutti gli esseri umani. Il desiderio di stare bene nel corpo e nello spirito, la ricerca del piacere, della bellezza, del cibo, di protezione, il bisogno di relazioni e di amicizia, l'aspirazione alla felicità, alla verità, alla giustizia, al bene. E al vertice di tutto questo c'è l'amore. C'è una sola felicità nella vita, amare ed essere amati. Si può vivere con il dolore, ma non si può vivere senza amare. Amare è il senso più profondo del nostro vivere. Gesù non ha inventato la nostra vocazione, ma l'ha rivelata, ci ha spiegato quello che è già scritto dentro di noi. Io credo in Gesù perché dentro di me percepisco che lui è la verità, perché sento che lui esprime quello che è scritto nella profondità del mio essere. Ecco come Gesù esprime il senso della vita «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso». Questo per Gesù è lo scopo del nostro vivere, e io credo che questa sia la verità. Questa è la vocazione universale di ogni uomo, amare. Questo è il comandamento che Dio ha scolpito nel cuore di ogni uomo. Gesù non ha mai chiesto a nessuno di imitare la sua vita. Ci ha chiesto di vivere la nostra vita in pienezza. C'è poi anche una vocazione particolare, ovvero il modo concreto in cui ciascuno di noi vive la propria vocazione. E allora troviamo una persona che trova il senso della sua vita nella famiglia, o nell'impegno sociale, o nel lavoro, la cura dell'ambiente, l'arte, e perché no, anche nella vita religiosa. Nella vita ci vuole profondità per scoprire chi siamo, per scoprire la nostra vocazione e coraggio per essere noi stessi. La vita è una cosa straordinaria perché, mentre scopriamo chi siamo, noi creiamo noi stessi. Resta comunque aperto il problema della morte. Quando qualcuno dice che la vita non ha senso, in realtà non vuole dire che la vita non ha una direzione, ma piuttosto vuole dire che questa direzione punta verso la morte, verso il nulla. Vuole dire che, siccome tutto quello che facciamo finisce nel nulla, allora tutta la vita perde significato. Si nasce senza averlo scelto, si vive come capita e con la morte si ritorna nel nulla. Però non è vero che la morte annulla il valore di quello che abbiamo vissuto. Al contrario, la morte ci costringe a cercare il significato del nostro vivere. Infatti, non possiamo scegliere di non morire, possiamo però decidere come vivere. Il senso della vita non deve essere dimostrato, deve solo essere scoperto, perché la vita è un fatto e a noi non resta che comprenderla e viverla nel modo migliore. A mio parere, noi non riusciremo mai a comprendere in pienezza il senso della vita, il senso della felicità e della sofferenza e della morte. Solo Dio può comprenderlo. Dio è il Padre che ha originato la nostra vita e ha costituito anche le leggi naturali dell'universo, come pure le leggi spirituali. Il senso delle cose è sempre qualcosa che va oltre le cose, come il senso di un seme lo scopriamo nella pianta che genera. Allo stesso modo, il senso del nascere è nella vita che viene dopo la nascita. Il senso del vivere è in qualcosa che va oltre la vita stessa. Il senso del soffrire deve essere qualcosa che va oltre la sofferenza. E il senso del morire è in qualcosa che va oltre la morte. La vita deve essere vissuta in avanti, ma può essere capita solo guardando all'indietro. Noi scopriremo il senso del dolore e della morte che ora ci sembrano inaccettabili, solo dopo aver oltrepassato la soglia del dolore e della morte. Ed è esattamente qui che noi incontriamo nuovamente Gesù Cristo. Gesù ci aveva già rivelato lo scopo del nostro vivere terreno, ma ora ci apre la porta anche al senso ultimo della vita, la vita eterna. Gesù Cristo ha vinto la morte. Ecco perché la risurrezione è il cuore della nostra fede, perché nella risurrezione trova pieno compimento tutto l'amore, tutta la bontà e la felicità che abbiamo vissuto in questa terra. Vorrei dire molte cose sulla risurrezione, ma ora è giusto concludere questa riflessione. Alcuni mesi fa ho incontrato una mamma che ha perso suo figlio. E le ho chiesto che cosa gli ha dato la forza per continuare a vivere. Lei mi ha risposto con una sola parola, il paradiso. Ora che abbiamo riflettuto insieme penso di poter concludere in modo sintetico dicendo che il senso ultimo della vita è il paradiso. La vita è un grande cammino verso la luce. Lo scopo della vita è amare. Morire non è nulla, ma non vivere è spaventoso. Io credo di essere stato di parola e di aver risposto alla domanda Qual è il senso della vita? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi, magari con un like o lasciando un commento e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi. Grazie mille ciao ciao e abbi cura di te.